L'Automobile Club di Terramo festeggia 100 anni dalla nascita, una storia ricca di eventi, risultati straordinari con la particolare vocazione all'automobilismo sportivo. L'ACI nazionale nasce nel 1905 e quindi immaginate che neanche dopo pochi anni arriva l'ACI Abruzzo. L'ACI Abruzzo nasce come RACA, Reale Automobile Club Abruzzo, nel 1924 e anche se noi siamo stati, si pensa che siamo stati una provincia, e forse lo pensano ancora, una provincia relegata dalle montagne da una parte e dal mare praticamente dall'altra senza le attuali autostrade, e quindi un pochino isolato, noi qui a Terramo c'era un grande fermento e che, come dire, sull'indirizzo praticamente di questo movimento filosofico, letterario, che stava travolgendo praticamente l'Italia e se vogliamo anche l'Europa, che era il futurismo di Marinetti, quindi il mito della velocità. E noi l'abbiamo cavalcato e questo è stato ed è ancora per noi un grande orgoglio. Numerosi gli eventi in programma nelle prossime settimane, ma quello di maggior richiamo è senza dubbio la rievocazione del circuito del Castello. Il circuito del Castello a Terramo torna il 25 maggio, sarà una rievocazione, ma io ho puntato, noi tutti del Consiglio abbiamo pensato che questa deve essere una festa, una festa non solo degli automobilisti sportivi, ma soprattutto una festa di noi terramani. La storia ha un senso, se riusciamo attraverso la storia a identificarci come persone, come comunità, quindi a scrivere, a capire il presente e quindi scrivere il futuro.